salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale in questo video volevo parlare di omaggio sicuramente tutti quanti avete visto gli ultimi modelli di omega lanciati sul mercato che praticamente sono delle belle proprie rappresentazioni di quello dello stereotipo di cui spesso parliamo ovvero di orologi replica oppure di omaggio di altri modelli più blasonati come quasi sempre giustamente sono i rolex quindi chi si aspettava che anche omega che punta sta puntando sempre di più come gruppo swatch a posizionarsi sulla fascia di mercato diciamo che era detenuta da rolex in pratica perché ormai grazie ai pezzi di listino leggermente maggiorati i pezzi di mercato sicuramente molto evitati e diciamo che questa fetta di mercato se l'era presa abbastanza bene diciamo che non aveva niente da invidiare omega a nessun altro marchio e aveva la sua linea di diver super iconica aveva un cronografo super iconico come conosciuto da tutti come il moon watch quindi diciamo che non gli mancava nulla neanche dal punto di vista di daily watch l'omega acquaterra è sempre stato uno dei più grandi orologi della sua categoria paragonati appunto al dayjust o l'oyster perpetual se non con qualcosa diciamo di più perché sono modelli un po più particolari un po più ricercati anche se ovviamente costano di meno perché sono facilmente trovabili a il listino ma come la vedete voi questa scelta di omega di copiare rolex di fare effettivamente omaggio di rolex stavo giusto pensando a questo argomento perché io diciamo ho scoperto questi modelli di omega attraverso una short un video di talk di alessandro di talk time o clock e sono rimasto davvero basito pensavo fosse una sorta di scherzo in realtà poi sono andato a controllare e sul sito omega ho visto i modelli e sono rimasto davvero scioccato cioè mi è venuto quasi da ridere e ho risposto principalmente con una piccola short con il mio pagani design omaggio da rolex gmt master 2 batman dicendo ora il colmo sarebbe che omega o brand come ad esempio brightling iniziass a fare omaggi come questi tanto ormai li fanno tutti li fa philip watch li fa omega li fanno tanti altri marchi abbastanza blasonati quindi perché ora non si mette anche rolex a fare gli omaggio di omega ora rolex fra un daytona moon watch a stand ragazzi queste cose non hanno senso da questo punto di vista però avvengono e quindi insomma il succo del discorso è siamo incazzati con omega siamo delusi da questa sua scelta sì in parte sì sinceramente non mi aspettavo che proprio omega come marchio facesse una cosa del genere però non è neanche tanto da abiesimare e come posso giustificare questa mia affermazione allora diciamo che ultimamente il mercato sta puntando molto a determinate linee che sono linee molto conosciute e che spesso diciamo spesso volentieri sono conosciute senza essere conosciute ora so che sembrerà strana questa mia affermazione proprio fermatevi un attimo a pensare quante persone conoscete che di orologeria ne sa poco e niente persone che se tu gli dici questo è un rolex ti dirà sì è vero solo se vede la coroncina o il nome rolex ma se tu prendi un orologio un non so un un bridling qualsiasi e ci metti la scritta rolex glielo fai vedere ti dicono ah sì sì che bel rolex senza minimamente avere il dubbio che si tratti di una mod o di un falso ecco queste sono persone che non hanno minimamente idea ok dei modelli della storia dell'iconicità di niente però vuole l'esclusività sono persone che magari hanno i soldi per poter acquistare un modello abbastanza blasonato vogliono quel design perché quello è un design diciamo blasonato come se fosse principalmente una vera e propria ricerca di identità no una sorta di ricerca dello status symbol come ne abbiamo sentito parlare spesso per quanto riguarda proprio la rolex stessa quindi figuratevi anche acquistando un orologio d'altissimo livello e poter appunto vantarsi di avere quella sorta di design al polso un po come dire voglio il nautilus non ho 30 mila euro 40 mila euro per comprare un nautilus però compro un gerard per rego che ne costa magari 25 mila 20 mila che diciamo mi ricorda molto il nautilus e lo voglio oppure immaginate se dal nulla un marchio come può essere non lo so cartier immaginiamo se cartier facesse l'hommage del royal hoc proprio identico un bell'hommage del royal hoc con scritto cartier e lo vendesse alla metà del prezzo o due o tre mila euro in meno chi lo va a comprare chi diciamo spende quei soldi la maggior parte delle persone che non sono appassionate parliamo chiaro non parliamo di appassionati di orologeria noi siamo malati noi siamo proprio fissati con queste cose quindi è normale che per noi invece sono discorsi un po più complessi ma loro vedono un marchio importante storico vedono un design abbastanza accattivante lussuoso possiamo dire è un listino un prezzo di listino che praticamente urla all'orologeria di lusso non si fa nessun problema se quell'orologio li piace lo acquistano vai gli poi a spiegare che magari quel design gentiano è ripreso da un orologio di philippa tech allora non le importa assolutamente niente loro hanno un cartier non le ne frega niente di che quel design che l'orologio era di un altro marchio stessa cosa ora omega è conosciuta come un un grande marchio d'orologeria lo sappiamo perfettamente uno dei marchi più conosciuti insieme a rolex e ovviamente è conosciuto anche per essere un orologio abbastanza caro quindi molto costoso lussuoso parliamo proprio del del lusso per eccellenza nel per quanto riguarda l'orologeria sportiva un po come rolex è conosciuto da questo punto di vista quindi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno e ha la capacità di poter fare quello che ha fatto ovvero di prendere un modello di un'altra casa ovvero rolex in questo caso la rivale per eccellenza diciamo di di omega e ha fatto degli omaggi ha riprodotto alcuni orologi della linea rolex e li ha messi al listino sul suo catalogo ufficiale omega poteva farlo a quanto pare si ragazzi perché a quanto pare era lo stesso discorso che io vi facevo quando parlavamo di omaggio da 100 euro io vi dicevo ha senso si ragazzi ha senso secondo me ha molto senso acquistare un omaggio perché se io non voglio spendere 3000 euro per un orologio però non sono neanche sicuro che mi piaccia davvero come faccio devo acquistarlo per forza devo provarlo come faccio a viverlo acquisti un omaggio non acquisti un falso acquisti un orologio molto simile se non praticamente identico che paghi due soldi puoi vivertelo puoi usarlo con tutta la spensieratezza di questo mondo e se poi te ne innamori forse poi diciamo punta fuori quell'idea di acquistare l'originale perché appunto abbiamo una sorta di copia al polso vogliamo il vero vogliamo il vero submariner per esempio se io sono stato due anni tre anni con una disdive al polso e mi sono innamorato del design del submariner e ne ho la possibilità inizio a mettere da parte i soldi mi compro il submariner ma se io non mi compro un a disdive e non ce l'ho al polso il submariner diciamo omaggio per un po come faccio davvero a sapere che mi piace quell'orologio come faccio davvero a essere sicuro che quel design sta bene sul mio polso ed è un orologio che io riesco a farmi piacere proprio nel nella quotidianità o lo devo comprare soltanto perché un rolex soltanto perché fa status o perché un orologio costoso e conosciuto lì aveva molto più senso è un omaggio ragazzi mentre quello che ha fatto mega assolutamente no non possiamo dire questo perché i listini sono lì e gli orologi omega gli orologi rolex come listino siamo davvero molto molto lì però mega ha cavalcato parecchio il fatto che sono modelli che anche se di listino sono abbastanza simili sempre con le dovute distinzioni e sto generalizzando però quelli rolex sono introvabili cioè a listino tu non lo puoi comprare è molto difficile acquistarne uno a listino quindi che cosa fai lo compri a prezzo di mercato al doppio dal triplo del prezzo oppure prendi un omaggio di omega però non lo so ragazzi io sto sparlando a caldo principalmente volevo fare questa chiacchierata con voi in estemporanea ero uscito fuori qui in montagna a provare un po di attrezzatura e ne ho approfittato se riesco contatto alessandro e facciamo una bella chiacchierata insieme una live pure insieme a voi penso sul suo canale o sul mio e ne parliamo insieme ok detto questo allora ragazzi ci sentiamo presto e rimanete aggiornati per saperne un po di questa faccenda e anche di altri progetti quindi iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto lasciate un like e al prossimo video di jack review ciao ragazzi